Si è rinnovata quest'anno quella che è diventata una vera e propria tradizione, il Central Car Day, che in questa edizione il gruppo guidato da Ettore Pedini è organizzato in un contesto naturalistico unico e suggestivo a Norcia tra i boschi e le montagne della Valnerina. Il slogan scelto per questa giornata è stato Insieme, insieme fuori dal contesto lavorativo quotidiano per ribadire quanto sia importante il lavoro di squadra. Un ritrovarsi con tutti i nostri collaboratori in location che cambiano di anno in anno e fare insieme delle azioni che possono apparire anche semplicemente dei giochi, ma che invece servono a far comprendere bene quanto importante sia lo spirito di gruppo. Non ci si può sempre riunire per parlare solo strettamente di lavoro, anche certo, ma quello lo facciamo di routine. Questo è un evento particolare. Tutti insieme per fare squadra, per rinforzare il rapporto umano fra di noi, perché noi abbiamo questo modo di fare impresa. L'azienda è cresciuta. Noi vogliamo rimanere laddove è possibile, fin quando possibile, una grande famiglia. L'evento è stato organizzato dal service di Central Car e allargato a tutti i settori dell'azienda. Abbiamo esteso l'invito quest'anno a questo che per noi è diventato un evento fortemente atteso e motivante, anche ai colleghi del reparto amministrativo e ai colleghi delle vendite. Abbiamo scelto lo slogan Insieme perché noi abbiamo una visione globale dell'azienda, anche se apparteniamo a reparti specifici. Tutti i nostri compiti sono fortemente impattanti sul risultato finale. Non riteniamo che esistano lavori più importanti di altri. Anche quello che può apparire come banalmente la più semplice delle operazioni, per noi è ugualmente determinante al raggiungimento dei nostri programmi, nel rispetto dei clienti e soprattutto del nostro personale. Abbiamo raccolto l'invito dei nostri colleghi del service con molto entusiasmo. Mai come in questo momento è necessaria la collaborazione tra i reparti. Lo slogan Insieme che abbiamo condiviso rappresenta in pieno la filosofia della nostra azienda. Ci aggiungiamo a quello che è stato avviato due anni fa, perché pensiamo che i team uniti potranno raggiungere degli obiettivi veramente ambiziosi. Help! Top 10